ragazzi veramente qua è da sentirsi male ho scoperto una cosa fantastica per riuscire a fare anche a creare 100 shorts in 5 minuti in 5 minuti, 10 minuti al massimo create 100 shorts e li buttate sul vostro canale e guadagnate con gli shorts sapete che se arrivate a 10 milioni di visualizzazioni potete monetizzare anche dal fondo shorts di youtube se avete la monetizzazione attiva quindi se volete pubblicare dei video shorts i video brevi, quelli verticali per intenderci ok? tipo i reel di instagram su youtube quindi youtube shorts, video brevi oggi siete nel posto giusto perché vi spiego per file e per segno come creare da dei vostri video lunghi in brevissimo tempo degli shorts verticali con tanto dei sottotitoli che scorrono quindi seguitemi mi raccomando andiamo subito al dunque o iscrivetevi perché in questo canale ci sono un sacco di tutorial gratuiti dove parliamo di business online e tecnologia mi raccomando e anche mindset quindi iscrivetevi, ci conto ma andiamo subito a farvi vedere questo sito fantastico che si chiama clip.opus.pro vi potete registrare con la vostra email o con il vostro account google quindi quello di gmail per esempio mettiamo caso che voi abbiate un vostro video adesso io qua sono nella parte di youtube studio e mettiamo caso che voglia prendere questo video ok, crea link condivisibile prendo il link del mio video youtube e vado a copiarlo qui ok, lui ci lavora un attimino mi chiede se lo voglio, quanto lo voglio lungo automatico, meno di 30 secondi vedete 30 e 60, ovviamente a me si interessano come shorts quindi lascio, per adesso lascio automatico oppure li posso anche dire tra i 30 e i 60 quindi siamo tranquilli e gli andiamo a dire get clips in one click ovviamente la versione è a pagamento ma avete 60 minuti di video da elaborare gratuiti quindi io per esempio lo sto utilizzando come free trial ok facciamo get clips in one clicks e adesso lui ce ne avrà un pochino perché deve elaborare il filmato ovviamente non è una cosa che fa in pochi minuti però lui vi genererà adesso vi faccio vedere i video video brevi e vi permetterà di pubblicarli e avere dei video ottimizzati già con i sottotitoli che si colorano e quant'altro da pubblicare sul vostro canale youtube in 4 e 4 8 è una figata pazzesca perché zero sforzo zero sbatti gli shorts come ho già spiegato su questo canale vi aiutano a prendere un sacco di iscritti sul vostro canale youtube quindi usate gli shorts con intelligenza ma usateli e potete programmare 50, 100, 200, 3000 shorts di qua a un anno come volete e voilà siete a posto volete programmare gli shorts per il prossimo mese? lo fate lo potete fare con questo sistema perché vi estrapola i video veramente in pochissimo tempo tra l'altro attenzione che mi apre un po' di più l'immagine allora eccoci qua ok tra l'altro vi assicuro che è veramente comodo perché se voi dovete prendere mettere il filmato per esempio su cap cut ritagliarlo metterci i sottotitoli che si colorano con l'animazione cioè ci diventate pazzi quindi che poi si può fare o lo fate voi o se avete già un bel canale youtube agliato vi affidate a dei professionisti tipo me che vi posso aiutare sapete quindi nel caso organizzo anche le consulenze per crescere su youtube creare canali youtube ma soprattutto quello che è incredibile è che questo tool vi permette di creare in brevissimo tempo degli shorts ok in più ovviamente se vogliamo aggiungere dei credits intanto che elabora andiamo a vedere vedete qua propone 19 dollari per il mensile con 200 upload al minuto o l'abbonamento annuale dove si risparmia un 50% se voi pensate che con 114 dollari potete avere fino a 200 minuti al mese da elaborare guardate che 200 minuti al mese non è male perché allora consideriamo facciamo due conteggi allora apriamo la calcolatrice oggi c'è il pc che dorme allora apriamo la calcolatrice qua abbiamo immaginiamo la media di un video di 8-9 minuti o 10 minuti a video ok da elaborare quindi sono 200 minuti diviso 10 voi potrete elaborare all'incirca 20 video al mese non è male non è affatto male 20 video al mese da poter elaborare ed estrapolarci degli shorts non è per niente male con 114 dollari all'anno è veramente poco ma davvero poco perché vi permette di creare 20 poi per 12 240 tematiche di contenuti shorts suddivisi e poi in tanti shorts perché adesso lui mi dividerà nei momenti più salienti creerà degli shorts in base a quel video che io adesso abbiamo caricato ok ed è una figata incredibile perché allora adesso lui qua sta elaborando ancora vediamo quanto tempo ce ne avrà intanto io posso andare ah quasi finito vedete 80% quindi anche è anche veloce cioè ma poi sapete aggiungere i sottotitoli e tra l'altro vi creerà poi vi farà esportare i filmati già con un titolo adesso lui me lo sta mettendo in inglese ogni video shorts che crea con un titolo quindi cosa vi consiglio di fare di aprirvi anche chat gpt chat quindi andiamo su chat.openai.com e gli andiamo a dire per esempio traduci e poi andremo a prendere il test del titolo di ogni shorts che ci ha creato ok e voilà così andremo a mettere il titolo del video in italiano per quello short e anche il contenuto nella descrizione adesso vi faccio vedere come si fa anche perché non rimane poi tanto ok dovremo esserci quasi intanto andiamo sulla dashboard ecco qua vedete all'incirca due minuti ma andiamo a vederne uno già fatto per esempio adesso ho caricato quello che poi sarebbe questo ok benissimo vedete lui ti crea questa paginata con i vari titoli qui ti dice che il viral score com'è e vi permette di basta fare download ok poi andiamo sul secondo video download di parte sulla barra del download di Google Chrome di questo mi ha creato tre shorts e cioè veramente da sentirsi male ragazzi cioè è di una comodità incredibile andiamo qui no perdon devo andare su downloads eccoli lì li sta ancora scaricando eccoli lì vedete mette il titolo in inglese mettiamo il caso che voglio caricarmi questo su YouTube cosa faccio per fare prima faccio F2 per rinominare ctrl c me ne vado su chat GPT dove li ha detto traduci ok lui mi fa la traduzione in italiano cioè una figata pazzesca una figata incredibile da svenire ragazzi da sentirsi male ok si prende questo il titolo e a questo punto vado su YouTube crea si fa carica video e caricate su YouTube il vostro video shorts con creato in automatico tra l'altro vi faccio vedere allora adesso ve lo mostro ve lo mostro però mi devo mettere questo così allora avete visto avete visto che figata una figata incredibile perché ricordatevi nei shorts i sottotitoli bisogna sempre andarli a mettere ok proprio fisici che rimangono impressi nel video altrimenti perché molto spesso la gente li guarda anche in silenzioso ok quindi in questo video siamo andati a vedere come creare in automatico degli shorts pubblicali su YouTube potete pubblicarne 100 200 300 tutti quelli che volete in pochissimi minuti quindi dopo questo super mega tutorial vi dico anzitutto che sto cercando di avere di ottenere dei codici sconto per poter aderire e iscriversi alla piattaforma comunque quando li avrò troverete sia in descrizione che nei commenti i link per accedere ad un prezzo agevolato alla piattaforma quindi potete iscrivere a questo servizio che comunque costa veramente un'inezia perché se consideriamo 114 dollari in 12 mesi allora abbiamo detto 114 diviso 12 cioè sono 9 euro 9 euro e 50 al mese ma ne vale la pena per elaborare 20 video al mese no? cosa dite? ma ne vale veramente la pena dai che ne vale veramente la pena comunque quando i link ve li posto in descrizione nei commenti così li potrete potete avere o comunque un'agevolazione comunque iscrivendovi col mio link mi supporterete anche no? se mi daranno l'affiliazione adesso sto guardando li ho contattati però intanto comunque ho voluto parlarvi di questa piattaforma perché è una ficcata pazzesca iscrivetevi al canale perché questo canale è una fonte di tutorial per fare business online guadagnare online partendo da zero sapete perché poi io parlo sempre di youtube perché perché secondo me youtube è il migliore business online da poter fare è il migliore apritevi un canale youtube cosa state aspettando datemi retta niente ragazzi io vi ringrazio di avermi seguito mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi perché tanti di voi guardano i video non si iscrivono dovete iscrivervi al canale iscrivetevi dai così vi arrivano anche le notifiche quando pubblico nuovi video che magari vi possono interessare rischiate di perdervi ok? visto che ci sono più di mille video su questo canale noi ci vediamo presto in una prossima puntata stay tuned ciao